E no, non c'è un episodio bonus purtroppo per questo capitolo, non ci sono episodi bonus purtroppo, perché anche dal bonus ci sono soltanto le scelte, la galleria dei documenti e basta, non abbiamo purtroppo altri bonus. Il bonus tecnicamente lo avevamo con Captain Spirit, che sarebbe stato il prequel di Life is Strange 2, cioè sarebbe il Captain Spirit, il bonus, mettiamola così, la demo di Life is Strange 2. Allora, per quanto riguarda il quarto capitolo, non sono state tante le scelte che potevamo fare, però direi che siamo arrivati a un epilogo probabilmente decente, in quanto praticamente alla fine abbiamo risparmiato la vita a Lisbeth, che sarebbe la madre suprema della chiesa che abbiamo visto la scorsa volta. Oggi sì, oggi purtroppo si finisce del tutto, però vabbè non ci preoccupiamo perché a settembre uscirà l'altro Life is Strange, uscirà Life is Strange True Colors, che prenderò ovviamente, cercherò di prendere in preordine, in modo tale da averlo magari a un prezzo un po' più ribassato, così ce lo possiamo giocare poi in live, easy. Quindi siamo riusciti praticamente a fare delle scelte più o meno giuste, oserei dire, anche conformi un po' a quella che è stata la community in generale di Life is Strange, quindi sono abbastanza soddisfatto. Hai sparato alla sora mentre la torturavi con Daniel, era da fare però, ma sì, in realtà... Cioè, ho visto anche questi tipi di finali e praticamente succede che Daniel impazzisce, prende la tizia, la solleva in aria e le inizia tipo a strangolare. E allora che cosa succede? Succede che tu poi puoi decidere o se spararle in modo tale da prenderti la colpa e quindi ammazzarla tu, oppure non fare niente e dire semplicemente se l'è meritato, hai fatto bene. Boh, fine. Questa era praticamente la decisione che si poteva fare. Mi metto a formare gli artefatti di sera. Va bene, grazie. Grazie per essere passato. Buona serata ovviamente anche a te con il farming e sperando che ti possa uscire qualcosa di interessante. Quindi, sì, diciamo che, bene o male, queste sono state le scelte più... Penso più adeguate al mio percorso. Mettiamola così. Più adeguata al percorso. Facciamo così. Comunque, niente, signori, si continua. Basta, io devo andare avanti, dobbiamo scoprire cosa succede. E niente, stasera l'andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere il cerchio, vediamo i due fratelli, che cosa succederà ai due fratelli, perché... Secondo me... Ci sarà, secondo me, una brutta scelta da fare qua. ... until hunters took their dad away. The Wolf Brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. That's when the Big Brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They decided to head south to the distant land of their ancestors. But the journey was long and dangerous. Still, the Wolf Brothers made new friends on the way. They learned more about the world. But danger seemed to always follow them after a bad accident. They were separated. The Big Brother had been hurt, and the hunters finally captured him. They put him in a cage. But when he finally escaped, he went to search for his little brother. He soon found out that the little wolf had joined a coyote cult, and he would not leave them. Suddenly, their mother showed up. After all that time, they were killed. They said they came to help rescue him. They begged the coyote leader, but she would not release the little wolf. He was their idol. So they had to knock her out. To escape. This one l'hanno uccisa, gli hanno fatto perdere i sensi. and now reunited, followed their rogue mother, far into the desert, to her hideaway. The end. Ah! Vediamo che cosa succederà stasera. Madonna mia. Stasera... Stasera la test. Stasera mi secca la test. Ciao, New Girl. 7 settimane dopo gli eventi di heaven point 7 settimane quindi quasi due mesi vabbè due mesi 7 settimane dopo gli eventi 7 settimane dopo gli eventi di heaven point Come si sono svegliati praticamente in mezzo al canyon e la madre? Cioè, loro accampati lì, non è che forse stanno facendo un'escursione, tipo, non ne so, magari la casa della madre è lì vicina. Perché ho paura che Sean fa una brutta figlia in questo, capito? Ah, sono tornati a ululare stavolta. Prima non lo faceva perché Finn era il suo amico. Bastardo. Io se ci penso, a schiaffi. So, are you still having those bad dreams? You know, about Lisbeth? Yeah. Sometimes, I feel like she's around, coming after me. It's scary. Dude, I bet she's having nightmares about you. Yeah, but she's still out there. Somewhere. Creeps me out. Ciao, guys. I hope so. Sean, are we criminals now? No way. We did exactly what we had to do. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. No, shh, non è vero. That's for sure. Yeah. Non hanno fatto chissà che cosa alla fine, dai. Cioè, non l'hanno ammazzata. Hanno dato fuoco alla chiesa, va bene, ma... Beh, dare fuoco a una chiesa... Lo hanno fatto in tanti. Sean, I know it's been a long time. Can you tell me the rest of the wolf story? Oh. Yeah. I can tell you. Esatto, è stato un intervento della Madonna a far prendere fuoco alla chiesa. Ah, vedi, allora sono con la madre. Ah, forse... Forse non sono con la madre. Ciao, coi. sì è vero ok allora quindi cosa succede dopo? loro arrivano a mexico ma il paese è rampato da goblini insieme i uomini e i unicorni manage to slay e diventano heroi la polizia li forgivano e tutti i miei amici vengono a mexico per celebra carino quindi possiamo guardare disegno sacchiappelo ah ma già c'è un disegno così easy c'è un disegno così a prima botta io non mi muovo disegnami bene io non mi muovo disegnami bene io non mi muovo disegno bene non mi muovo non mi muovo non mi muovo non mi muovo disegnami bene non mi muovo mi muovovo disegnami bene non mi muovovo cazzo no non lo volevo fare cattivo ma come e ti dormiremo nel nostro letto e allora praticamente sono con la madre saranno tipo vicino a casa della madre ok che è questo? O, capitan Cam, potete prendere questi? No Perfetto 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 Non se si 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 Stop! Daniel! Can't catch it, huh? No shit. Now cut it out. Jeez! You're no fun! Every star looked the same, until we used Karen's old guidebook. I swear Dad had that same book in the garage. Yeah, I think he did. Why did he never show it to us? Maybe... It reminded him of Mom too much. Oh. Beh, è il fratello più grande. È normale che sia un po'... Un po' paletto nel culo anche lui. Allora, la torcia, la costellazione, il cibo... Questo gliel'ha preparato la mamma. Ah no. Joan cucina dei curi deliziosi. Chi cazzo è Joan? Sarà qualcuno che dovremmo conoscere, forse? Karen vuole parlare. È difficile, ma cercherò di ascoltarla. Non so se capirò mai, ma farò uno sforzo. Ci siamo ripresi Daniel, finalmente. Quella guru pazzoide può andarsene all'inferno. È bello essere di nuovo insieme al mio fratellino. Cioè, stiamo andando da Event Point. Ah, ecco, Karen ci sta portando a casa sua. Dobbiamo respirare, dormire e guarire. Karen vive in una comune nel deserto. Sai che novità? Lei dice che è una comune non incorporata. Si chiama Away. Ci vive solo una trentina di persone, a seconda del periodo. Questo posto è stranissimo, ma il deserto è mozzafiato. È il nascondiglio perfetto. Daniel è ancora molto confuso, si sente davvero in colpa. Non riesce ancora a capire cosa è successo. Il lavaggio del cervello, le bugie, il modo in cui Lisbeth si è approfittata dei suoi trami. Sto facendo del mio meglio per aiutare la riprendersi. Spero che stiano bene. Anche Karen sta aiutando molto. È brava con le parole. Quella lettera da Jacob e Sara l'ha tirato su di morale. Daniel ha bisogno di più amici. E anch'io. È assurdo vivere con Karen, di nuovo. Vuole voltare pagina. È facile addirsi per lei. Io ci sto provando. Daniel sta migliorando. Adora riavere la sua mamma. Beh, è normale. Il potere di Daniel qui non è un segreto. Non gliene frega niente a nessuno. Lo accettano. E non lo vedono come una cosa da usare al loro vantaggio. È una boccata d'aria fresca. Tanto non ci crederebbe nessuno. Per gli altri siamo già dei pazzi scatenati. Questo posto a Wei è quello che vuoi che sia. Ah, ecco. Vedi, John lo riempie di sculture fighissime fatte con i rottami che trova in giro. È una donna solare e molto gentile. Sembra che sia la migliore amica di Karen. Qualsiasi cosa significhi per lei. Tatuaggi fighissimi. Oggi sono tranquillo. Ah, vedi? John è questa qui. La mamma gli ha rubato i preservativi dallo zaino comunque. È vero, effettivamente non ci sono. Oh, c'è una coppia. Arthur e Stanley vivono in una delle poche case vere della città. L'hanno costruito insieme dieci anni fa. Dalle macerie delle loro vite passate. Non riescono a smettere di stuzzicarsi, ma sono una gran fonte di ispirazione. Coppia anziana, amore giovane. Oggi ho ricevuto una lettera dalla gang di Humboldt. Figo. Mi piacerebbe rivederli. Magari un giorno. Questo posto mi fa venire voglia di disegnare. Potrei rimanere a guardare i canyon per ore e ore. Daniel ha bisogno di sfogarsi. È da settimane che fa degli incubi su Heaven Point e Lisbeth. Si sente ancora in colpa per il mio occhio. Devo trovare un modo per aiutarlo a elaborare. Karen ci ha parlato di un bel posto per campeggiare. Abbiamo raggiunto la vetta dopo una lunga camminata nel canyon. Sembra che sia passato un secolo dai miei allenamenti d'atletico. Dovrei fare più cardio. Non cadere. Orsa maggiore. Centano. La vista più bella del mondo. Grazie a telescopio di Arthur. E questo è il disegno che abbiamo fatto. Serelle di no. Skip. Spade. Ecco. Lo sapevo che arrivava il commento spade. Allora vedi qui c'è un portachiavi. Vabbè ma tanto questi qua non li troverò sicuramente mai. E' vero comunque la mamma gli ha fregato i preservativi dallo zaino. Gli ha tolto i preservativi dallo zaino. Gli ha tolto i preservativi dallo zaino. Mi sa che li ha finiti. E infatti li ha usati e non ci sono più. Sto senza connessione a casa e niente. Sto incazzatello. Che è un nuovo modo di dire incazzato. Lo scottiamo. Non è il momento di giocare. E non farlo. Ma in che senso? Cioè non farlo è sempre più un rimprovero. Che forse sto scorpione avvelenerà qualcuno. Però vedi questa è stata una decisione per il lupo piccolo. Quindi per Daniel. Quindi chissà che cosa lo porta. Vabbè leviamoci il dente. Buttiamoci e basta. No non si può fare. Ah quindi adesso possiamo finalmente interagire di nuovo. con Daniel. Ah, Joanne. Ciao. Ciao Ale. ciao a tutti. Oh wow. Tu ma dai music se You appreciate in che terci. Oh wow. Oh non io! Buona domanda. Sono queste cose pesanti? O qualcosa? È un cattus, ragazzi. Stina, è tutto. Forse è quello... Forse è quello... Forse è quello il souvenir. Daniel? Vedo qualcosa dietro questa rocca. Puoi portarlo? Ah, ho capito! Vedo, qui viene! Oh, guarda questo! È molto bello! Sì, stiamo prendendo questo dolore. Eh, infatti, il souvenir è raccolto. Immaginavo. Ok... 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 Oh, ho capito! Ho capito! Ho capito che Caren ha un po' di fara! Vedi qui posso usarlo il potere Sono molto più libero rispetto a prima Non c'è più la regola del Nascondiamo i poteri Perché ormai è diventata Una cosa mainstream Super careful Ha sbaragliato tutte le cose Molto gentile Molto cool Posato easy Esatto Quelli di sotto saranno contenti Vedi abitano una sorta di comunità Oh yeah Oh yeah Oh yeah Hey What the fuck Daniel Aspetta però aspetta Ah no qua c'è solo l'interazione Ah no qua Discuti Ma come faccio a discutere se non c'è Rulotto di Karen Rulotto di Karen Ah forse gli posso parlare Scusami Che spero non sia erba magari Cosa di Daniel E' un'altra cosa E' un'altra cosa che è la chiavetta usb di warren qui c'è la surprise oddio cos'è la surprise ah queste sono le poesie di cara mamma caro papà voglio scrivervi una lettera so che è stata una lunga lunga attesa quindi stasera sono qui seduta che tutto accade per una ragione ora capisco perché so che per dieci anni avete ricevuto solo una chiamata e sei lettere da me non volevo farvi del male non sapevo cosa dirvi o scrive avevo il blocco del poeta proprio come voi mi avete bloccato dalla vostra vita dopo che ho lasciato Esteban potrei vedere così inflessibile sembri proprio buon giorno di Esteban comunque il padre allora era cosciente di quello che voleva lei e di tante cose cancellate e tante cose invece scritte ok Ma quella a destra è un uomo o una donna? Penso sia una donna. Dove pare che ha la barba. Ah, vediamo com'è finita. Guarda come Lila. Non ho anche i miei soldi a lui. Però vabbè. Diciamo che la cosa non è cambiata più di tanto. Mi sembra che non arriverete dall'altra parte. Stai bene? Io sto molto meglio. Ce l'abbiamo fatta. Qui c'è Freddino, mi piace. Vinici a trovare. Sarà lì col cuoricino. Sarebbe stato brutto se invece fosse morta, tipo sarà lì, a causa della polmonite. Se io non gli avessi dato i soldi lì, veramente mi sarebbe caduta la testa a terra. Schede di Sean, schede di Karen, usa la chiavetta USB. Sì. 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 Ah ecco, vedi? C'è Brody che sta scrivendo Figo Ah, questo ha scritto Mi sa di loro L'ultima volta che avevo mia madre Quando ho rivisto mia madre Era ormai una malata terminale Sì, che lui doveva andare Doveva andare Da sua madre, vero? Ed era lei a chiedermi scusa Abbiamo pianto tutti Io non so se Vi dà fastidio se leggo oppure no Lo volete leggere per conto vostro Cioè, boh, per me alla fine è uguale Posso leggerlo io oppure Allora Bah, non importa Ho visto il meglio e il peggio delle persone In tutti i posti in cui sono stato Di solito si vedono questi casi estremi Alle 3 del mattino In una stazione di servizio vuota Su qualche autostrada deserta Sì, ho visto delle famiglie unite In situazioni difficili So che ci sono dei fratelli maggiori Là fuori Che si prenderanno sempre cura Dei loro fratellini E viceversa Mi hanno aiutato a capire Il nostro fragile ecosistema filiale Io e mio fratello Abbiamo tenuto le dita sottili Di mia madre Durante le sue ultime ore di vita Mentre lei se ne andava In un luogo migliore Di quello da cui era venuta O almeno così spero Dopo averci salutati Ho trovato una pila di vecchi temi E storie Che avevano scritto a scuola Era l'unica cosa In cui me la cavavo Non sapevo Avesse conservato queste cose Né che ci tenesse Anche se non ci siamo mai capiti Probabilmente Era un po' orgogliosa di me Quando me ne sono andata A cercare di fare del bene Le mamme sanno come Farti piangere Come un mocciosetto Era da molto tempo Che gli occhi non mi bruciavano Per le lacrime E mi sono sentito bene Quindi ora sono tornato In una casa In cui avevo giurato Che non sarei mai più venuto Questa volta Non mi sento così fuori posto Anche se lo sono ancora Come dico fin troppo spesso C'è molta differenza Tra l'essere soli E il sentirsi soli Non c'è assolutamente Verità più vera Di questa Ora mi devo occupare Di una tenuta E un molte più responsabilità Di quelle che vorrei Ma sarà il karma Il destino O il dharma Dei privilegiati Per forza Non fatevi prendere dal panico Ma potrei prendermi Una pausa Dalla mia vita Per strada Per vedere chi posso Aiutare o cosa posso fare Dato che ora ho più risorse Da condividere Sono sicuro Che mio fratello Approverà Inserire sarcasmo qui Se parleremo ancora Dopo questa fratellanza funebre Ok Non è un finale allegro Ma forse c'è speranza E parlando di speranza Dato il triste Stato di questo Pessimo paese Penso che sia arrivato Il momento Di provare qualcosa Di nuovo Mandatemi messaggi Da luoghi E persone Che non conosco Luoghi che posso esplorare Per raccontare Storie nuove Come il Canada Il Messico O La strada non ha fine Sono felice Che Laila È tornata Laila Park Io durante il giorno Tutto bene Tutto sotto controllo Io alle 3 del mattino A letto Laila Park Ha caricato una nuova foto Laila Park Spero che nessuno Si sia incazzato Perché non mi sono fatta Più sentire Il mio cervello Aveva bisogno Di una pausa Già Può succedere anche a me Le persone hanno paura Di parlare Della salute mentale Parlate E prendetevi cura Gli uni degli altri Cazzo Piace A 43 persone Laila Park Grazie per i fiori Ho pianto Stronzi Laila è tornata Aspettami Ti aspetto Famiglia Ok preparati Ah vabbè Direi che È sopravvissuta Se vuoi leggere Leggi Se non vuoi leggere Prendi 2 E ti mando a calci Dalla vesita Ok allora A posto A sto punto Usiamo la chietta USB No che era successo Niente Praticamente È successo Che noi Con Laila Non ci siamo sentiti più Cioè io non l'ho richiamata Non ho fatto in modo Di farmi sentire E lei praticamente A quanto pare Tipo Ci è rimasta male Si è chiusa in se stesso Avrà avuto qualche problema Però adesso È andata avanti Ed è tornata Praticamente Quella di prima Cioè Nel senso È tornata ad essere Praticamente Tranquilla Compiti di matematica Filme e altro Disegni e altra roba Foto Misty 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 Tickets Punto pdf Ah i biglietti Guarda la foto col padre I should have gone through that flash stripe Weeks ago Wow Ok È stata la stessa cosa Vabbè Ok niente Hai ripetuto Sei molte la stessa frase Wow Wow Pinza per serpenti Ah Effettivamente È un po' Un po' Inquietante Medicina per l'occhio Va bene I pancakes Ovviamente Mangiamoceli No Li ha preparati la mamma Mi pare male Che poi Non li mangiamo Questo cos'è Ok Candeline Ah che gli hanno fatto La festa di compleanno Eh vabbè Gli hanno fatto in ritardo Però almeno L'ha festeggiata Con la famiglia Allora Questo cos'è Ah l'acqua Il raccoglitore D'acqua piovana Che tramite Penso Caltafiltro Ecco Ora lì Sicuramente Ti puoi sedere E puoi fare un disegno Giusto Easy Ormai Easy Dopo cinque capitoli Ok Certo Preferivo di più Le foto di Max In realtà Che almeno La facevi una volta La foto La faceva subito E basta Qua ogni volta Devi premere Devi fare Devi disegnare Devi prendere Devi guardare Devi mettere a fuoco Disegna un branco di lupi Disegna un mondo biomeccanico No Un branco di lupi Questo che l'episodio Si chiama Waltz Direi che ci sta Ok Poi ci sta di più Con lo sfondo Del canyon Ma lui sta crescendo La barbetta Comunque Attenzione Guardate C'ha tipo i peli C'ha tipo i peletti Gli sta crescendo La barba Come suo padre Now I can see why Karen Lights it out here It just took a while She really doesn't want to be a part of society Except just this tiny one She did screw us over though But Daniel's so happy to have her back Get to know her I still don't know how I feel Come ti devi sentire Ma si felice che hai rincontrato tua madre Cioè Non è che c'è molto da dire Certo Magari non accetti il fatto che se ne sia andata Non tanto perché Cioè per una motivazione futile ecco Diciamo magari Se ne fosse andata per una Per una cosa Grave Allora sì Però Eh pannelli solari Vedi per l'energia elettrica Allora io però Minchia qua Effettivamente si può esplorare Si può esplorare di tutto e di più Solo uno può trasformare l'acqua in qualcos'altro E quello è il tuo figlio Il resto è solo È solo imitazione Poi Ma non c'è nulla E anche di qua Mi fa andare Ma non passa Buu È un finto open world Vergogna Mi avete scammato i soldi Ah questo è il coso L'angolo degli scambi Sì ok Lo utilizzano anche in Finlandia Però lo utilizzano con i libri Se non sbaglio Cioè dove tu praticamente Metti i libri usati Da una parte Cioè li metti in questa sorta di Di scaffale O quello che è E praticamente Chi ha i libri Li scambiano Prende un libro E mette un libro Oppure mette dei libri Anche se non ne vuole leggere Per arricchire il tutto E Giustamente si Si fa una sorta di libreria Fatta in casa Si si vabbè Io parlo di Parlo di Svezia Comunque Paesi balcanici Perché L'ho visto Proprio L'ho visto Però comunque Anche in altre parti del mondo Lo fanno Ovviamente Gli eservativi rubati al film Ah quindi Questa è la roulotte Di La roulotte Di Johanna Di Johanna Ah lì stanno Ah lì stanno Sembra la più carina Nelle cose Nelle cose I don't know It's just Doodles and shit No big deal If you want to be an artist You will be It's not always easy But in the end Come ha fatto Gamio It's pretty fucking cool Speaking of Do you mind giving me hand here? Oh Uh I don't know if I can Yes you can Yes you can Yes you can I just need your input Vabbè per essere Non vuol dire nulla Io anche ho fatto Gamio Ma non ho perso Tutti i capelli O le sopracciglia Cioè Va bene che poi È una cosa soggettiva Ma Può può essere Che lei sia proprio Glabra Proprio di Di suo Cioè può essere Ci sono quelli Che sono così Anche perché È molto chiara Di pelle È proprio È proprio Glabra Lei Allora Noi possiamo fare O il Il modellino In miniatura Oppure fare Una cosa Per cazzi nostri A quanto pare Ma la base Sarebbe questa Giusto? Sì perché La base Questa qua Quadrata Quindi possiamo O fare Il modellino Oppure Fare una cosa Nostra No ma Non credo Io credo Che lei Abbia Quella Malattia Non mi sta Avvenendo il nome Di dove Praticamente Non ti crescono I peli Com'è che si Chiamava L'alopecia Esatto L'alopecia Allora Ma Oddio In realtà Non so se Fare la stessa Statua Oppure Oppure No Beh Sapete che vi Dico Ok Daniel Can you Slam dunk The earth ball Onto the base Ma che c'è Non è solo Non è solo Sopracciglia L'alopecia È quando Tu proprio Non hai Non hai Proprio Peli In tutto Il corpo Cioè Tu proprio Nasci Senza Peli Vabbè Vabbè Te le puoi disegnare anche tu Con la matita Anche 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 Fartele tatuare Volendo Cioè Non è quello Il problema Sopracciglia Sì Sopracciglia Sì 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 Daniel, credo che l'art potrebbe essere nella sua famiglia di DNA, non c'è nessun escapamento. Credo che siamo finiti per il giorno. Grazie mille per la scuola. Ok. Questo era divertente. Joanne è davvero tranquilla con l'art. Questo è quello che rende talento. Mi credo che tu abbia piaciuto Minecraft. Eh, è un po' come questo. Sì, ho le ho leo. È un... video game, certo? Sì! E tu puoi creare qualsiasi vuoi! Disegno sulla sabbia. Dicegno. Dicegno che Daniel non ero il solo figlio in città. Sì, la politica. Sì, lo sbagliasci. Questo paese è così un viaggio. È un po' come un miraggio deserto. Tu pensi che puoi vedere. Ma il più vicino che ti arrivi, cambia. Ah, quella è la casa di Arthur con... Sì. Sì. Guarda che bello quelli glù. Sì. Sì. Allora, ma qua in giro dovrebbe esserci il secondo souvenir o sbaglio? No matter what happened before. Aspettiamo, quello lassù mi sembrava più... Sembra più Daniel perché hai pantaloncini corti. Boh, vabbè. Boh, vabbè. E' un po' come quando ti ti senti a dormire durante quel film di Bollywood? Perché era così lato dopo quei cartoni cool. Qualcuno. Hai perduto Prya e Stanley a insegnarmi come danza. No, non ho. Non puoi danza, ragazzi. Non ti senti a dormire, figlio. Ok, David. Grazie per l'esplanazione. Ecco, è di casa di Stanley e... Ah, dove c'è Capitano Spirit? C'è Capitano Spirit drawing... ...was awesome. Thanks. Wish I could show it to Chris. Do you think he can visit us down in Puerto Lobos? Yep. Let's make it happen. Yeah. Instead of snowmen, we can make sandcastle. I hope the UFOs are listening. David always wants to help. But he's tough to figure out. Vediamo se c'è qualcos'altro qui. In realtà... Ah, no, mi ci fa andare. Eh, niente, perché devo riportare per forza il telescopio là. Aspetta, no, sono lì. Non ci andiamo subito. Andiamo a vedere se c'è qualcosa prima che possiamo fare. È di barbecue. David vuole sempre aiutare. Oddio! Ma è quel David? David Manson? No! Che figo! Ma qua non mi ci fa andare. No. Niente, devo consegnare... Aspetta. È qua su dove c'è il souvenir. È qua su dove c'è il souvenir. Eh, nano... Dammi... Dammi souvenir. Pezzo di merda. Ehi, nano. Come cazzo faccio a farmi dare il souvenir? Ehi. 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 Come... Ehi. 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 Come... Che cazzo faccio a farmi dare... Forse dopo aver consegnato il telescopio? Vabbè andiamo ad andare a sto coso, forse si può fare dopo. Cassetta per gli uccelli. Eh ma qua gli uccelli. Perché qua... Mi sa che... Fuochi d'artificio... Ok, diamo il telescopio. Ehi, cosa c'è? Buongiorno Sean! Siamoci! Buongiorno. E' proprio in tempo per il nostro speciale deserto. E' libero. Grazie. Grazie mille. 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 Inoltre. Grazie mille. Beh, effettivamente È strana sta cosa Cioè nel senso Cioè io capisco che Magari una persona sappia Effettivamente, dice, sa io i miei gusti sessuali Sono questi Io so di essere gay Io sono tranquillamente felice di essere gay Però come fai tu Cioè tendenzialmente hetero Scoprire che sei gay È una bella È una bella È una bella Cioè è una bella cosa Da discutere perché Cioè non so effettivamente Cosa possa scattare nella testa Cioè cos'è che effettivamente Ti fa scattare Il fattore di dire Sai prima Sono sposato Mi piacciono le donne Poi Invece cambio totalmente Cioè non Non lo so Boh è particolare questa cosa Decisamente particolare Sì vabbè Dopo aver avuto un'esperienza Sì sono d'accordo ma Come fai ad avere quell'esperienza Quindi tecnicamente mi state dicendo Che dovrei provare Dovrei provare una cosa del genere Sì Sì Tu sei un po' troppo giovane per me raccogliare, ragazzo. Ehm, sai cosa? L'ho vedo i chiedendo il giorno. È un po' strano. Voi sapere che è normale per le persone che amano chiedere, certo? Lo so. Cioè, sono veramente amici insieme. Ho spero che qualcuno mi mi piace così quando mi sono vecchio. Beh, dalla carne al pesce un secondo... non lo so fino a che punto. Ora che fa? Me lo dai sto souvenir? Eccolo qua. Questo è il suo air. Vabbè... Le ali che non possono volare... Ehm... qua. No. Allora, ha detto... Acquazzone? Addirittura. Ah, non gli erito addirittura. Ah, le ali che non possono volare. Eccolo, il mulino. Oh, ma... Certo, le ali che non possono volare. Certo, le ali che non possono volare. avrebbero dovuto fare lui. Ah, è la mappa del tesoro di coso. È simile alla mappa del tesoro di coso. Dove c'è qualcosa che mangia il sole? Dove c'è qualcosa che mangia il sole? Dove c'è qualcosa che mangia il sole? Forse il generatore? Forse il generatore? Eccolo. 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 L'ho fatto il misfatto. Ecco qua. Vedi, qui c'è il coso. Questa è la roulette... La roulette. La roulette. La roulotte. Ok, quindi in mezzo alle macchine. Ok. E' una... Tracing paper sheet with a red cross. E' una nuova macchina per le altre paper. E' una traccia di te, capitan. E' una traccia di te. Ah, hoi, amore. E' credo che ho la tutta di traccia di te. Ah, capitan. E' una traccia di te. Stanno facendo lo stesso gioco di Max con... Con Chloe. Sì. Eccolo. Eccolo. Che so. Chris mi ha detto tutto il risultato di traccia di te. Siamo al casino. Mi è venuto un roulette in mente, non so perché. Sì. Sì. Credo che ho trovato una traccia di te. Ha, ha, ha. Sì. Sì. Lo so che tu potessi farlo. Ho trovato una traccia di te. Ho trovato un vecchio traccia di te. Si sembra di gold, certo? Ehm... Non sono un prospector. Ma... Si sembra come il vero. Stor! Sì. 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 Non ci credo che hanno inserito il ballo di Fortnite. Nuovo souvenir. Souvenir. Eccolo qua. Eh, ma dov'è la macchina? Eh, la fanfara di Final Fantasy. Ah, 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 ah. Aspetta che torni Karen. Forse devo andare... Aspetta, ho visto là passare qualcosa. Ah, ecco, vedi, la macchina. Eccola. Yeeeh, sono qui, mamma. Investimi. Investimi. Oh, 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 oh. C'è qualcuno in macchina con lei. Ehi. Con chi sei in macchina? Podio. Come vi? Ehi, sono. Eh, David? Ma è lui? Ma come è cambiato? Ma se la fa con la mamma di Sean? Ma non penso venga prima perché David ha i capelli bianchi. Vedi è brizzolato. Ma non sembra neanche lui da come l'abbiamo conosciuto. C'è un po' più difficile. C'è un po' più difficile. Ma secondo me è successo Dopo che è morto Chloe Vedi la guerra è un gioco da ragazzi Ecco vedi Lo ero Abbiamo divorziato Vedi la morte di sua figlia l'ha distrutta Di Chloe E se avessi salvato Chloe? Ci sarebbe stata Chloe qui insieme a David? Anche se Chloe in realtà Se n'è andata con Max Quindi Non credo si sarebbe stata Forse mi avrebbe detto la stessa cosa Dice dopo che sua figlia è sparita Oppure dopo che è morta Nell'incidente di Secondo me avrebbe detto che Dopo la morte della sua moglie Lui è venuto tipo qua Perché comunque distruggendo Arcadia Bay Sicuramente Joyce sarebbe morta Con quell'uragano Quindi E quindi lui sarebbe venuto qui A prescindere Perché o In un modo sarebbe morta Joyce Mentre invece in questo caso La morte di Chloe Li ha fatti separare Perché poi erano Erano divorziati praticamente Però penso che non sarebbe cambiato nulla Sarebbe stata la stessa cosa Dice dopo la morte Magari di mia moglie Dice no sono venuto qui La figlia è sparita Non mi ha voluto cercare Dice no sono C'è l'ultimo che le persone vengono qui, da tutto il paese, per le loro ragazze. Non è perfetto, ma funziona. È così tranquillamente qui. Credo che questo è quello che tutti chiedono davvero. La pazza. Probabilmente sei. Sì, sento ancora che ci siamo davvero privilegiati qui. C'è qualcosa che succede in questo deserto. Sì. Non credo che non puoi mai riuscire da tutto. Tu non puoi escapare la realtà. Anche qui. Ci siamo solo un po' di meno. Quindi... come ti è finito qui? Questo non è un paese. Come molti di noi, io ero prima stata qui da qualcuno. Maggi. ... 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 Tu devi essere in fronte con tutti i due. Ciò che succede a Haven Pointe... ... sta accettando con noi. Huh? Cosa significa? Quando stavamo in la città... ... abbiamo visto alcuni storie... ... nella biblioteca. Ci sono stati sicuramente... ... in la regione. ... e ci saranno. ... 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 C'è l'ho azzeccato più o meno. Perché praticamente gli sta dicendo dovete andare lì. Ah, forse sono i fuochi o qualcosa. Comunque il 4 luglio è la festa. Ah, no, sono le lanterne. Le lanterne cinesi, tío. Al posto dei fuochi d'artificio stanno facendo le lanterne cinesi. Il festival di live. Il festival di live. Sì, ma il bello delle lanterne cinesi è che volano via, no? Che ti restano lì attorno. Eh, infatti, bravo. Lascia le volare. Ma sai che ce le ho anch'io le lanterne nell'inventario? Ma non dovevano sparire dopo l'evento? Però forse credo di averle anch'io. Ne ho un botto, tra l'altro. Ok, quindi praticamente adesso, niente, dobbiamo andare via. Ed è qui che ora cominceranno... Inizierà a farsi interessante la storia. Era tutto troppo tranquillo. Adesso inizierà... Inizierà il casino. Ah, vedi? Ci sono le loro foto addirittura? C'è un leo sul giornale. Eh, siete tutti tutti sette per andare via? No. Sì, quindi dovremmo andare ancora. Penso... Sono un po' assicurato. Oh, amico. Non c'è un po' assicurato. Non c'è un po' assicurato. Beh, un po' assicurato. Non c'è un po' assicurato. Non sarà facile crossare questa porta. Quindi, io vorrei darei un'azicurato di la polizia. Wait, come? Qual è il tuo plan? L'azicurato sono dopo me, anche. Per quello che è in Nevada. So they can catch me, instead of you. Fairtrade. Mom, we'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. You don't have to do this, Karen. I let you guys down before. Not this time. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. And I feel the same today. I tried to live by my own rules. No matter what. I don't expect you boys to be like me. But try to stay true to yourselves. This is your life. Don't let anybody get in the way. Fuck the rules. We'll do whatever we can to survive. That's fair. Yes, it is. You took care of Daniel all the way from Seattle to Arizona. Nobody could ask for a better brother. or son. Okay. This is the last roundup. Wait. Let me say bye to Joelle. All right. I'm going to go do one last check up from the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. You should go see David. He has something for you. Okay. I've seen how to finish if you choose to save Chloe. And it's something... It's something... It's something... It's something... It's something... What do you think? I Wolf. It's something... It's something... It's something... No, for fortuna. Okay. allora dopo ce l'andiamo a vedere in caso però se scrivo a karen potrebbe essere un qualcosa di incriminante ciao conquilina sì lo so che a new york ad agosto fa un caldo boia so che il caldo ti piace ma il mio attico è veramente soffocante non voglio mettere il dito nella piaga ma aspen è la mia nuova casa estiva di giorno le temperature sono attorno ai 20 gradi e di notte c'è la jacuzzi la baita di anthony è una specie di rifugio sciistico magari la prossima volta puoi venire anche tu è un paradiso per i poeti la cui è migliore per il tuo blocco invernale e per favore sappimi dire quando riuscirai a pagare l'affitto di agosto mi serve per il mese prossimo e per aspen torno il 5 settembre non il 4 quindi vedi di metterti addosso qualcosa non cacciarti nei guai ricordati di innaffiare le mie piccoline questa volta bacione emma gentile signora reynolds a seguito della nostra conversazione del 10 giugno e della sua incapacità di consegnare il suo libro di poesie the other way alla resvury press entro la data accordata dal contratto del primo giugno siamo specienti di informarla che questa violazione del contratto significa che non pubblicheremo più la raccolta all'interno della nostra serie nuovi poeti come indicato nella sezione 6 del nostro contratto se l'autore non consegna il manoscritto entro la data concordata l'editoria ha il diritto di recuperare interamente l'anticipo di 10.000 dollari troverà un modulo e un piano di rimborso legati a questa lettera come indicato nella sezione 23 del nostro contratto i diritti del manoscritto torneranno all'autore previo rimborso completo dell'anticipo schede di shawn targhetta però se scrivo qualcosa a karen e i poliziotti la trovano potrebbe essere un qualcosa di che potrebbe comprometterlo quindi non le scriviamo niente anche se no non le scriviamo niente perché potrebbe potrebbe essere compromettente è vero che la stanno cercando però non è che con quale accusa la stanno cercando lei in realtà cos'è che ha fatto cioè non c'è un qualcosa di così grave lei è solo stata lì quindi però scriverle potrebbe essere un ricordo potrebbe essere un qualcosa per lei alla fine se la stanno cercando e scoprono che la madre è comunque fottuta no no non le scrivo è troppo pericoloso lei potrebbe uscirsene col fatto eh sì sono stati con me però poi sono scappati se ne sono andati quindi potrebbe essere qualsiasi cosa quindi però magari facciamo un giro vediamoci un po' di volte non ho mai mai riuscato di cari e stupi. Esteban era obsesato con gli motori. Non significa che tu aveva bisogno. Si. Il voleva solo mi trovare la mia forma. Qualcunque sia. Chiarò che ho avuto più tempo. Listen, Esteban Lovede you and Daniel For exactly who you are He Would be proud That you're going back to his homeland Today Did you guys Ever Go to Mexico together? We talked about going But never did He said growing up there Was hard But he loved it I don't know anything about Mexico It's scary Sean You're carrying the weight of two people On your shoulders now It's okay to be nervous I'm just tired of running Of causing trouble Everywhere we go Daniel's power is overwhelming And we don't know where it comes from But you do know your brother You'll be there for each other I just want to get this shit over with So we can start over If we can Your brother sure isn't a little kid anymore He had to grow up too fast He wants to be equals And you guys are going to have to work together He may even help you make it Maybe you're right You'll figure it out Like you always do Okay Better get back to my tune-up Hey don't forget to see David I will Okay 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 So 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 I came by to say Adios We're Taking off today No you're not Really This is something that you can do This is something that you can do It's extra I think it's time to go It's time to go You're sure You're sure that Daniel could stay longer Yeah But it's too risky Especially for all of you We all took a risk moving here Look We can hide you from the cops Not these ones They want my ass It's better if we leave now Sean I won't drag this out and get bitter Besides You and Daniel will be back to visit Right? We'll try I'm glad this place will be our last U.S. memory You and your little brother will always have friends here And a home Okay I'm done babbling I just hate goodbyes I know you're both gonna have a great life in Mexico You better We We're gonna make it work Shit I'm gonna miss you guys Take care You hear? Watch out for Daniel He needs you Be safe And send us a postcard to the beach Che poi quell'altro sembra decisamente più Più giovane Wrap my head around those two leaving That's just unfair Allora Eh Se andiamo nel camper I don't know Come on First thing that comes to your mind He's a woodcutter who lives underground And he can fly thanks to his rocket Okay, 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 that's good Okay, okay, that's good See, you just have to let your mind do the job Easy Yeah, it's pretty cool Yeah, it's pretty cool You just have to train Focus on something And let your imagination speak Okay, I'll try Should go see what David wants now Hey Hey What's going on? I'm taking a look at this baby with hindsight So What do you think? Looks very cool I can totally tell what you're doing Oh, good That makes one of us But I like it Of course You Daniel You did inspire me I love it So You guys leaving now? Yeah Just wanted to say goodbye That's sweet You're so sweet Your brother is so sweet Having you boys around Was the sweetest thing Ah, vedi Mi dà qualcosa This is for all your help Really? Wow Ah, il lupo That's great Do I get anything? Oh, your name is on a way bigger sculpture For everyone to see That's true I didn't think about that Your brother needed a little something To remind him of the artist inside Wicked Okay One big hug And get out of here And then start crying like babies Thank you Joanne For everything Just please take care of yourself And my special apprentice No worries We always do Hey Is it okay if I hang out a bit, Wander? If it's okay with her Are you kidding? I need more help So long, Sean Don't be a stranger Beh, gli hanno messo il nome A quest'ora io avrei potuto anche evitare di metterlo John John Crede davvero che abbia talento Mi fa venire voglia di continuare a disegnare Ah, non è un Non è un Un souvenir È proprio un oggetto Extra Che puoi avere Potrebbe essere importante Per Per il futuro Per il futuro magari Per un finale Boh, non lo so Magari sblocca una strada particolare Sto oggetto Vediamo che vuole David Ah, le targhe false Ci sto dando Addirittura David che cambia le targhe Che è diventato Un fuorilegge Che brutto Perché? Perché vi fate vedere queste cose? No Povera Chloe I feel you David Cala Joyce È stato bello ricevere la tua cartolina Stai viaggiando molto, eh Spero che tu stia girando il mondo Proprio come volevi So che le nostre vite Sono completamente diverse Ma spero che potremo È tutto così diverso adesso E spero che un giorno Potremo sederci davanti a una birra A sparare cazzate come una volta Oh Arthur said David could fix anything He hopes Yeah Me and David won't be sharing any playlist That's right Ma non era la foto Che aveva dato a Chloe Non ci sto facendo caso Se effettivamente David è cambiato molto Dalla morte di Chloe Ah vedi Sicuramente lui ora vuole Vuole darci la radio della polizia Possibilmente Per sentire Le intercettazioni Come on Alla prossima. Ma torniamo alla nostra chiamata, parlando di climat... Non penso che. Continuiamo a scannare. E tu vai! Un'altra scelta da l'arrivo. Non c'è nulla. esatto per per cercare di di camuffare le c'è per per tentare di diseminare gli sbir pazzesco david cambiamento radicale c'è lui che era tutto quello il dovere la sicurezza il essere surprise on your way to the border all right this is the fastest route when you get there cross between these two stations now you have to exit the main road and drive through the desert for a while but karen's car should be ok ha il tatuaggio sul petto con scritto in memory in memory of chloe può essere che si è fatto il tatuaggio ed in memory i don't mean to order you around bad habits die hard and yes i was suspicious when karen showed up with you two but after watching you and your little brother for a while i think i get what you're going through your experience forms you as a person and i imagine all the shit you've seen and how it's changed you pretty much not comparing myself but i had to go through my own hell in war and at home i didn't know how to deal with emotions or other people are you talking about your stepdaughter yeah some rich fucking kids shot her at school where i was supposed to protect her me and her hated each other on sight but once i lost her everything became clear how selfish and stupid i'd been i should have listened to chloe instead of being a bully all of my fuck ups are crystal clear now but i'm not gonna fuck this up sean i'm gonna do everything i can to help you get out of here that's my duty now but i want to be straight up with you okay yeah of course i know you guys got screwed but you think nobody will ever believe you but the truth is on your side you and daniel can't just hide out forever is that how you see yourself in 10 years if you step up and face the law you can be free sooner and later you've come too far now we just want a new life that's it i understand i do i'm trying to be the adult you're too young to be dealing with all this and daniel is growing up fast too fast that's what i'm worried about you made it here so i know you're on the right path oh sorry i really have to take this hey joyce right on time joyce che gli ha chiamato i'm good i'm only done setting up the solar panel don't worry i'm mostly working when the sun's going down you got that right now how about you oh any news from the vet you got that right now so i can see that little boy next time i swing back to santa rosa ma quindi si vedono loro che non lo facciano uscire chi è Nathan? forse stavano parlando di Nathan che lo vogliono far uscire lascia away col pick up come here mom i i'm gonna miss you i'll miss you too Danny it was amazing to spend this time with you i'm so damn proud of you both and what you're gonna do with your life and if you ever need me i'm just around the corner ok mom thank you come non abbracciare perché no abbraccio assolutamente la chiamata mamma thanks for letting me son come fai a mettere una scelta del genere? ma si che l'abbraccio allora sicuramente succederà il casino per avermi messo sta scelta qui è un casino beh non abbracciare perché lui comunque puoi scegliere di essere duro con tua madre e non perdonarla mai quindi proprio castigarla fino alla fine praticamente io alla fine non mi sentirei di fare questo tutti che ti vengono a salutare la mamma è sempre la mamma può sembrare una cosa stupida da dire perché magari uno non ci dà peso però anche quando perdi già uno dei tuoi genitori comunque lo capisci il fatto che cioè il valore che possa avere effettivamente la mamma o il papà nell'arco della tua vita è importante è molto importante qualsiasi cosa succeda i genitori sono genitori magari per la madre forse è un qualcosa di più il legame che si ha con la madre forse è diverso rispetto al legame che si ha col padre ma parlo a prescindere maschi e femmine la mamma ti dà la vita quindi è un debito che è troppo grande è un debito troppo grande è un debito troppo grande è un debito troppo grande è la prima volta che devo dire questo non mi preoccupo di questo quindi cosa è il problema? cosa cosa faremo a Porto Robos? non conosciamo nessuno siamo come stranieri quanto tempo possiamo vivere là? viveremo come dei pascià non penso non dovremo più fuggire beh avremo una nuova casa almeno as long as we want we have a house there that's what dad wanted so what are we gonna do for money and stuff? I get a job man it won't be hard you can probably go to school dude I can't even speak Spanish how can I make friends or do anything if I can't talk? I'll teach you man you think so? that's cool you fit in everywhere we go and we'll get to hang out too um well that sounds okay I guess Daniel I get scared too you know but we'll be we'll be fine okay I trust you per una volta si fida di me pazzesco strano che non mi abbia detto fanculo credo in fin vedi che scherzano in macchina certo non ti puoi mettere nei panni comunque di questa storia perché veramente il fatto che lui abbia dieci anni Daniel ha dieci anni Sean ne ha praticamente diciotto quasi ne ha diciassette diciotto e si ritrova praticamente a fare da fratello da padre c'è troppo 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 difficile è una cosa che è fin troppo pesante è una cosa che è fin troppo pesante sì quello è anche vero che Finn potrebbe essere morto però il fatto che lui aveva questo forte legame con lui che addirittura aveva il suo braccio si era conservato addirittura il suo braccialetto non è non è una cosa da non è una cosa da sottovalutare la grande wall quindi che fanno lasciano la macchina là e scavalcano è veramente così stanno facendo oh no Sean esatto vedi però hanno restato la madre però non hanno tracce di noi se noi avessimo scritto il biglietto chiediti di distruggere no non lo posso distruggere sarebbe un casino se lo distruggessi poi ricarica no no non lo posso fare il viaggio nel tempo no ma non lo posso abbattere il muro cioè è anche peggio questa cosa cioè già già che dopo un attraversario il confine cioè già il fatto che io stia varcando il confine illegalmente è una cosa sbagliata va bene allora a prescindere dal fatto che possa essere tutto quello che vuoi ma è sbagliato è letteralmente sbagliato il problema è oddio ma non posso fare cioè non posso andare da nessun'altra parte devo fargli distruggere il muro per forza cioè devo fargli distruggere il muro e passare con la macchina in mezzo qua praticamente che non posso andare da nessun'altra parte eh volate di là una parola non mi fa volare di là cioè non ce l'ho l'opzione della macchina tipo entra e sfonda entra e sfonda tutto anche perché la macchina farebbe cazzo devo andare a distruggerlo veramente ora forse non ci riesce a distruggerlo magari ma non penso perché cioè ormai ha un potere che è pazzesco va bene enano pensaci tu va bene non possiamo fare altrimenti ok mi sta sembrando tipo di rivedere gli x-men con magneto che tipo faceva la scena quella col metallo che praticamente lo piegava lo faceva forse non ce la fa forse non ce la fa non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho prendi il tempo resta concentrato non ce l'ho non ce l'ho Sì, stai quasi a l'arrivo. certo si è si è spaccato no, just breathe shh breathe we did it we fucked that shit up yes it's all thanks to you it's gonna be alright you've done the hardest part thanks for taking me down here, Sean nah we did it together, man come on let's go back to the car i guai non sono finiti qua questo è l'inizio della fine vabbè l'hanno preso alla spalla non è ma chi è che ha sparato però nooo quelli chi sono saranno forse quelli che tengono d'occhio il confine Daniel so what's the plan huh I bet there's a dozen more coming through right no we're leaving going to Mexico I swear wait wait you're trying to break into Mexico that's fucking funny we're Americans Americans damn it now it's not legal to blow up walls that's called terrorism you get it do we look like terrorists we're just kids not after you blow a wall up so tell me the plan you're not cops you can't arrest us no but we work with them and they sure appreciate our help sono tipo dei cacciatori di taglie anyway don't waste your energy I bet the border patrol has a big plan for you mister Madison come on we have to deal with this kid don't touch get off don't move what the fuck get it off stop c'è loro dovevano non dovevano andare in macchina dovevano andare a piedi così una volta passato il confine tipo così what the fuck is going on where Spencer he's off duty today why listen we have a deal he knows yeah I heard about this crap not happening anymore come on Maddie do what the officer says fuck how old is he he's alright officer don't worry shut it you're both coming with me to the station what are you kidding they're illegal fuck's sake what'd I say uh oh okay take a breath you okay now Daniel what I'm sorry are you Sean Sean Diaz you're under arrest porca puttana però sono contento che abbiano arrestato anche quegli stronzi dopo che hanno sparato a Daniel oh ci sono degli altri compagni di celle belle così belle tutte insieme appassionate ah ci sono anche loro godo godo sei bene sì io sei Diego e viene mi esposa Carla e este frijolito da qui es es Angel o Angela encantado soy Sean come 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 io ho è ho che che è mio Citizens come su gestione a cerca del muro sta herì yaşweise loора hanno a la infermeria ci fuera grave una ambulanza e avrei venuto a buscarlo. Se lo lasciaron qui, vuoi dire che è ok. Tranquillo, amigo. Qui non facendo daño a tutti i bambini. Non posso rompere quella porta senza la pompa Daniel. Non posso rompere la prima volta. Il presidente era un altro, però i problemi di nostro lato della frontera erano gli stessi. È la tercera volta che abbiamo provato la frontera. Perché necessitano provare così desesperatamente? Per le mesi ragazze che tutti. Non possiamo sopportare la insegurità e la miseria. In Mexico la violenza ha molte forme. Non si può vivere così. quando mio franzo fuori secostrato e asesinato per una pandilla nos fuimos. Se avessimo pedito quedarnos nos avessimo quedato in nostro pueblo, però queremos dargli una vita una vita che è quello che ha fatto mio papà è fuori di mexico quando i suoi padri per ottenere la vita ma io lo so che l'escrivo a suo popolo natale ovviamente però sicuro che aveva le ragioni per andare come noi non voglio desanimarti però il mexico non sarà facile per voi è un paese magnifiche e mi fa molto farlo però allà sarà molto complicato cumplire i tuoi sogni non ho sogni qui Sean has vivido in questo paese tutta la vita con un padre mexicano e ora i tempi hanno cambiato come c'è come c'è come c'è come c'è come c'è tutto in il futuro è un paese come c'è come c'è come c'è per il vostro bambino, tutti vogliono un ruolo gratuito, e questo mi fa dolore. Immigranti crearono questo paese, dove venivano i bambini? Non, 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 era diverso. Ci hanno fatto le luoghi. Ci non stanno andando a farlo. Ci siamo solo lavorati e in pazza. Sì, un lavoro sincero e la capacità di riuscire il nostro bambino in un paese sicuro. È tutto ciò che stiamo cercando. È quello che ci diciamo sempre. Ma i fatti parlano per loro. Il mio padre era un emigrant, e ha lavorato l'acqua, riuscita una famiglia, e ha fatto un negozio. Sì, e il suo figlio è finito in giro. Cosa un role model. Grazie per provare il mio punto. Cosa, bambina. Cosa, cosa. Cosa, cosa. Cosa, cosa. Non credo che ho una scuola. Voglio il più sicuro per i miei bambini. Voi? Tu amici la tua famiglia come noi. Non andiamo a passare le tanti di miles in un deserto, e rischiamo tutto per nessun motivo. Ci facciamo per il nostro bambino. Una madre deve capire. No, tu e il tuo nonno paracetto, non hanno nulla in common con me e la mia famiglia. Cosa? Maddie. Cosa ti dice? Oh, vedi? Allora. Siéntate, Diego. Solo vas a empeorar las cosas para ustedes. Tienes razone, amor. No vale la pena. E, se vuoi che la gente ha perduto o non, non ci saranno una scuola. Sei in giro, anche. E tu? Un perdonante. C'è? Cosa? 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 Non ci saranno qui? Cosa? È? Tu hai il diritto di rimane. Quindi usate, ok? Allora... Díaz, sei in giro. come è il mio fratello? non ti preoccupi di lui, ora guarda l'hanno dietro l'hanno dietro ok? move e ora c'è l'interrogatorio, vai così f***** che hanno fatto con Daniel? spero che sia bene non ha senso romperle, c'è la videocamera fantastico ora posso mettere in una f*****a show oh f***** è già buon giorno? come potrei riuscire me da questa messa? non c'è problema non c'è problema in riuscire ci sono coppi di tutto non ha senso non ha completamente se posso fare rompi ma non ha senso c'è la videocamera che mi riprende è inutile ormai cerchiamo di vedere cosa succede e basta qua li stanno litigando dall'altro lato eh 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 come andevi qui ma non sono un lingo io sono un cittadino aprivi eh Anche perché sicuramente Se faccio rompi non si romperanno E probabilmente potrebbe essere Una scelta Esatto potrebbe essere una scelta cattiva Mentre invece così Cerchiamo di mantenere la situazione Tranquilla Almeno Anche perché questo non mi sembra essere uno stronzo Sembra essere Un semplice poliziotto E sta svolgendo il suo lavoro Forse ho la possibilità qua di Di dire effettivamente come stanno le cose L'unica cosa problematica è l'aver picchiato Quello lì là al negozio No Ecco Quello potrebbe essere un problema Ok Questo sì E poi ci si chiede una comunione religiosa Nervato No. so she says a lot who cares you don't have any proof don't drag her into this okay she's a good person hey it's not up to me kid listen I feel sorry for you I really do but denying what you did will only make things worse it wasn't my fault All I did was try to survive. Yeah, I guess you did. You know, I read the report. You claim that Officer Matthews' death was an accident. So why didn't you wait for the police? No one would have believed what happened. We didn't either. Well, it's too late now. Your case is filled to the brim with evidence. Good news is... Your brother's too young to be prosecuted. He'll end up with your grandparents. If they want to. But you're facing a shitload of years between bars. At least he'll get a life. Minchia, questo è Daniel. Uh... What I don't get... Is... How two kids can destroy so much stuff. I mean... Anywhere you went... Something blew up. Seriously? How? Incidenti casuali. Siamo dei super cattivoni. Ha, 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 ha. Those... Were just... Random accidents. Yeah, it's crazy, but... It just happens around us. Can't explain it. Uh-huh. Listen. Once... Is an accident. Twice... Is luck. Three times... Is enemy action. Oh. What is that? Sir? I don't think you should... Keep your ass in that seat. No, no, no. Keep working out. Sean. You okay? How do you feel? I'm okay. Just... A little headache. Hold on. Dude. We have to go. We have to go. Hold on. Hold on. Four times... It's the fault of Jesus. Are you okay? I... I wanted to rescue you. But I... I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Don't worry. Hey! Come on. Come on. Come on. I'm out of here! There's enough. It's on. Who are these people? Well, how... God, we're out of here. I'm okay. They came all the way from Mexico. Thank God. They're only in jail for it. That's for... ...the others. They're the ones who try to shoot you. What? They got locked up? Good. Go to hell. Vendicati E libera Oddio no Li teniamo in prigione Li potrei liberare a loro Ma penso che Finirà male Però li voglio liberare Li voglio liberare loro Quelli li lascio là Fa un culo Li lascio in prigione No non ho bisogno di vendicare Lasciali in prigione qua Si peggiora solo la situazione Non ci sono Ok, le faccio Oh, shit No Non lo scicch Do non move Wait, Sean Stay back, Daniel Let me think Sean, what do I do? Quick Gotta find something to stop them They got multiple officers down Stop them We gotta get them They're dangerous Be careful What's going on? I'm scared Do something What the fuck? We're going to shoot If we need to Ok, what the fuck? Do not move Don't do anything stupid Throw that locker No Minchia, però così Li ho feriti Merda No Aspetta Fermo No Non volevo fare questo Fermo Fermo Non pensavo glielo scaraventasse addosso Aspetta Voglio pensare Voglio vedere se c'era un'altra opzione Aspetta Non pensavo glielo buttasse addosso così Cioè pensavo lo facesse cadere Una minchiata del genere No, no, no Lo faccio Poi lo vediamo Lo vediamo Magari Vediamo Facciamo un extra Va bene Allora vi faccio vedere cosa succede Se ci vendichiamo E poi ricarichiamo Dai Lo facciamo l'ultima volta Vai Esatto Visto Bravo Daniel Ok Vedi questa è stata Una cosa smart Questa è stata una cosa intelligente Ha pensato Ha pensato come me Fondamentalmente Va bene Mi fa piacere sta cosa Eh vedi Daniel è maturato però Hai visto L'avrebbe fatto Possibilmente Se fosse stato qualche capitolo prima L'avrebbe fatto Ma qui è migliorato comunque Daniel Può essere magari Magari se lui fosse diventato tipo Tepsista al 100% Magari l'avrebbe fatto veramente È vero Se io gli avessi dato il brutto esempio Magari si sblocca la cosa di Di fare la vendetta con La vedremo alla fine Tra le scelte finali Ok Questi Se ne possono andare Forse se sono abbastanza veloce con la sedia Uccidi Rinchiudi Ah ecco vedi c'è la porta Vedi? Ok Ok Sean Penso che i nostri fani sono in là Eh 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 Che ti fai fatto? Che f***e Che f***e Non muovere Spero di tornare Ok Ma fai rapido Vedi Li posso rinchiudere Minchia uccidi addirittura Minchia fucile Dopo questo Non sarai niente Che f***e Non si può rinchiare Ma f***e Non si può rinchiare No non si può rinchiare Il Il C'è Il addirittura la spilla gli va a raccogliere un bel ricordo ottimo ottimo quindi praticamente siamo alla fine scusa e tutti questi souvenir dove cazzo li ho persi tutti questi souvenir che non ho fatto niente questo era sul muro a minchia questo era il muro ma quindi siamo già alla fine come on Sean we gotta go we would be so dead if we didn't have Daniels power I hate take it out Daniel ok go go let's roll Daniel e l'abbiamo salvati a quelli sperando che ora non gli succeda qualcosa che vengono investiti qualche minchiata perché sicuramente te la mettono una cosa del genere su life is strange tipo che per inseguirla attiva una macchina random l'investe arrivederci e grazie no nobody is chasing us not yet stedere emergency is it all point bulletin for every unit in the area multiple prisoners two adults and two teenagers to escape from the hell ray police station they are considered arm and dangerous repeat Sì, siamo ancora andati a mexico? Sì, abbiamo nonostante andare. Sì, siamo ancora andati a mexico. Sean, è il 4 giugno. Un'ora. Il primo senza il padre. Sì, è vero. Remember... ...how... ...he was so into fireworks... ...every year? ... ...he sempre... ...made us go too early... ...so we could get a good spot. Sì, è vero. È così corny. ...è vero. ...è vero che è stato orgullo di vivere in questo paese. ...è vero. ... 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 in realtà sarebbero tre o sfondo tutto con daniel o mi arrendo e daniel fa di testa sua o mi arrendo e daniel può vivere una vita tranquilla a discapito mio queste sono le scelte Sean I'm sorry for my mistakes I tried my best I swear Sean I'm so proud of you and I know just like dad would be we both learned a lot together you can make your own rules now if we surrender they will separate us daniel and if that happens promise me that you always do the right thing okay don't waste your power be smart like you already are I don't want to be separated what ever happens always remember that you take you oh my god I promise Sean io non vorrei che qualche poliziotto gli spara veramente pezzo di merda come on there's no way out this is our last warning how does the story of the wolf brothers end the enemy antics antics attravedi? attravesse il confine addirittura attravesse il confine sfondando tutto Sì Sì, siamo non criminali, siamo solo ragazzi e abbiamo ancora tempo per選zere che vita vogliamo vivere tu è mio figlio e ti amo ti amo ti amo anche tu, Sean deve essere tutto bene, prometto 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 per reale questa volta? I do we're doing the right thing just try and remember what I taught you I mean only the good shit I will I swear on your knees I said on your knees now qui secondo me Daniel poteva decidere di di buttarli tutti quanti via se non avesse non lo so, st'impressione devo vedere cosa succede lo vediamo adesso about all this we're gonna look after your brother that's my word okay, he's ready Sean no, Sean come back he's gonna be fine Daniel you're not a little wolf anymore never forget who you are never si, anche secondo me se non avesse avuto degli insegnamenti rigidi o comunque l'avessi lasciato a briglie sciolte secondo me lui sarebbe impazzito avrebbe fatto il caos avrebbe distrutto tutto e ora io avrei sfondato tutto io avrei fatto questo io avrei fatto quello e vabbè sfondando tutto cosa cosa avreste concluso non si concludeva niente vedi lui è rimasto con i nonni almeno visto lui lo va a trovare in prigione nonostante tutto il rapporto rimane perché giustamente sono fratelli lui giustamente viene arrestato vedi sono passati gli anni si avrebbero vissuto tranquilli non lo so fino a che punto quelli gli hanno raccontato che comunque la vita in Messico non sarebbe stata non sarebbe stata facile vedi Daniel che addirittura si è diplomato diplomato laureato quello che è ah vedi quello è David anche lui si è messo a disegnare quella è Karen ma come ti sei laureato e ti metti a fare tipo il cameriere vabbè non è molto diverso da qui allora 2033 che è andato a vivere da solo praticamente si è spostato vedi move forse ora esce 15 anni dopo ora forse sta uscendo di prigione lui è il momento in cui esce di prigione è finita la pena e di là c'è sua madre che è Daniel che è cresciuto guardalo guarda che figaccione prendere la laurea ti spedisce dritto al McDonald's qui in Italia si dai non è uguale uguale dai è un bel figaccione adesso con la barbetta capello lungo dai affascinante però ah che è uguale a Sean beh oddio eccolo invecchiato anche lui che l'hanno aspettato questo mi sembra però un good ending sono contento c'è anche la madre ci sono riuniti ci sono riuniti penso sì effettivamente che questo possa essere il finale il finale migliore ed è anche quello che effettivamente mi dà forse un po' più di pace ora muore qualcuno a casa esatto la domanda sarebbe sarebbe quella se lui in questi anni ha ancora avuto i suoi poteri o se li ha utilizzati addirittura o se magari che adesso è tranquillo e ha avuto modo di vivere la sua vita sono tornati nella foresta dove erano stati insieme quello ha la protesi all'occhio sono ritornati lì dove sono andati per la prima volta nella foresta della prima della prima volta là c'erano i segni sull'albero del percorso vedi nella caverna nella grotta dove erano dove erano da piccoli quello gli sta raccontando tutto però sembra sembra triste Sean sembra sta piangendo è triste giustamente si è perso tutta la vita di suo fratello praticamente si è perso tutta si è perso praticamente tutta tutta la crescita del fratello ha perso ha perso tutto praticamente è normale è normale cioè dopo 15 anni cioè lui è andato in prigione che ne aveva 10 è uscito dopo 15 anni vuol dire che ne ha 25 quindi tra l'altro 15 anni di prigione gli hanno dato cioè gli hanno dato un casino l'ha salutato e se ne sta andando quello che ulula vedi però è bello ah 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 ha risposto alla domanda ha risposto alla domanda ha ancora i poteri ma può essere che è praticamente forse l'ending a metà magari tipo quello quello neutrale ecco mettiamola così né quello né quello buono né quello cattivo diciamo il finale canonico tra virgolette e poi magari ci può essere un finale ancora meglio o forse un finale ancora peggio non si sa effettivamente quali possono essere i finali perché loro quasi sono separati comunque quindi sono stati insieme però successivamente si sono si sono si sono cioè si sono separati che è si non c'è non si è visto più nessun altro il finale peggiore è terribile non me l'aspettavo ok almeno non abbiamo fatto il finale peggiore vabbè ora ce li andiamo a vedere i finali cioè se vi va ce li andiamo a vedere i finali li vado a cercare e ce li vediamo ce li guardiamo ce li guardiamo ok ok va bene ora li mettiamo va bene basta ok mi avete mi avete convinto va bene allora ah le uniche scelte che effettivamente allora hai deciso di oltrepassare il posto di blocco e Daniel ha accettato hai deciso di oltrepassare il posto di blocco e Daniel si è rifiutato hai deciso di consegnarti alla polizia e Daniel ha accettato hai deciso di consegnarti alla polizia e Daniel si è rifiutato minchia minchia in generale ha insegnato a Daniel a fare del suo meglio per seguire le regole della società in generale ha insegnato a Daniel a pensare a se stesso e a suo fratello prima di tutto ah hai fatto la caccia al tesoro e hai trovato l'oggetto nascosto in generale hai legato con Karen non hai scritto niente a Karen hai scritto una lettera indifferente a Karen una lettera di riconciliazione e una lettera premurosa a Karen hai detto addio ad Arthur e Stanley hai detto addio a Joan hai abbracciato Karen prima di andare minchia 97% sei intervenuto per calmare Diego hai liberato la coppia di messicani hai chiesto a Daniel di aprire la cella dei vigilantes non hai fatto del male ai vigilantes minchia hai chiesto a Daniel di vendicarsi ah no forse era soltanto chiedere non hai chiesto a Daniel di uccidere gli agenti madonna se le avessi uccisi possibilmente sarebbe cambiato ancora di più Daniel è stato sgridato per lo scorpione ha smesso di dargli fastidio Daniel è stato sgridato per lo scorpione ma ha continuato a dargli fastidio Daniel non è stato sgridato per lo scorpione ok Daniel ha costruito la struttura di John con il suo aiuto Daniel ha costruito la scultura di John come voleva lui Daniel ha costruito la scultura di John senza il tuo aiuto ah vedi qui Daniel praticamente se tu l'avessi lasciato troppo libero tipo faceva il cazzo che voleva Daniel non voleva fare male non voleva fare del male alla gente Daniel non era preoccupato per la gente cioè proprio qua Daniel diventava un criminale praticamente cioè mi stanno dicendo che il finale peggiore è tipo che Daniel cioè che Daniel insieme a Sean sarebbero diventati tipo gli Avengers al contrario praticamente Daniel ha accettato di aprire la cella dei vigilantes Daniel si è rifiutato di liberare i vigilantes a Daniel non è stato chiesto di liberare i vigilantes easy Daniel ha accettato di vendicarsi sui vigilantes quindi poteva accettare Daniel si è rifiutato di vendicarsi che è quello che poteva esserci anche con noi Daniel non ha dovuto attaccare i vigilantes ok Daniel ha ucciso gli agenti per scappare dalla stazione di polizia Daniel ha stordito gli agenti Daniel ha chiuso gli agenti in un armadietto Daniel è stato obbligato a intervenire perché gli agenti si sono avvicinati troppo Daniel non ha esitato a uccidere gli agenti Daniel ha dovuto uccidere gli agenti anche se non voleva farlo un per cento Daniel si è rifiutato di uccidere a Daniel non è stato chiesto di uccidere vabbè direi scelte più o meno più o meno conformi diciamo ai risultati addirittura ha stordito 39 c'è qualcosa in più grazie per aver giocato e viaggiato insieme a Sean e Daniel ora come ricompensa rifai tutto da capo torna in prigione senza passare dal via visita la pagina acquista altro per scoprire altri giochi dell'universo di Life is Strange come si è conclusa la tua storia dei fratelli lupi partecipa alla conversazione online usando Life is Strange se tu o qualcuno che conosci siete stati vittima di uno dei soggetti o dei temi trattati in questa stagione visita per trovare delle informazioni sulle organizzazioni di sostegno questa è una cosa bella sì diciamo che il primo allora sono stati belli tutti e due però effettivamente il primo mi è entrato un po' più dentro è cambiato anche lo sfondo col padre di nuovo tutti quanti insieme che adesso sono fuori tutti insieme che figata il primo allora non era secondo me neanche una questione di scelte comunque del primo Life is Strange il primo Life is Strange a me personalmente mi è entrato un po' più dentro per le host perché le host comunque del 2 erano belle le scelte del 2 erano comunque anche le host erano belle però secondo me l'insieme delle scelte delle host della situazione che si è creata nel primo secondo me non c'è non c'è paragone secondo me non c'è paragone comunque andiamo a vedere gli altri finali allora adesso vi metto lo schermo fatemi cercare un attimo i video possibilmente c'è un finale c'è un finale ancora meglio possibilmente non lo sappiamo ora possiamo vedere se se c'è veramente un finale un finale che è anche meglio allora i sette finali i sette finali i sette finali c'è 44 minuti di video i fratelli i fratelli sono arrivati alla fine del loro viaggio oddio ho letto delle cose che aspetta aspetta vi devo mettere lo schermo un secondo aspetta 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 dov'è allora questo è a rendersi con alta moralità quindi vediamo se effettivamente è lo stesso è pronto carabinieri vigili del fuoco tutti quanti anche perché ci sono delle varianti in mezzo aspetta aspetta non ho messo la cam un secondo ok ora ci siamo si si è tutto in base a come ha fatto crescere Daniel vabbè qua possiamo andare avanti perché penso che tutto sia nella decisione che era qua gli fa tutto il disco anche per i sottotitoli li potevano mettere lo stesso anche in inglese giusto per aspettate un attimo a me sta cosa che almeno almeno i sottotitoli ci devono essere cioè mi dà fastidio il fatto che non ci siano i sottotitoli addirittura anche in italiano ci sono ah no ma forse questi sono quelli tradotti sono quelli fatti automaticamente forse da 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 google aspetta vediamo i sottotitoli di youtube sono tutto un programma ah giusto avete ragione aspettate che la levo che penso che questo comunque sia quello che ho fatto io perché arrendersi con alta moralità sì penso che sia il nostro questo e infatti vedi lui che è tornato a casa che va a trovare il fratello aspetta ah sì quello è il fuoco con karen i disegni lui che lavora qua lo aspettano sì mi sa che questo è quello che abbiamo fatto noi visto lui che piange sì sì questo è quello che abbiamo fatto noi praticamente l'aila presente alla scarcerazione di sean scena alternativa vuoi vedere che no ma daniel che si è messo con l'aila mi pare difficile ma si è messa con daniel se ce l'ha fatta io mi inchino se daniel è riuscito a mettersi con l'aila io mi inchino cioè ragazzi mi faccio dare lezioni di rimorchio perché lei che ti ha visto crescere come un bambino e che addirittura riesce a fidanzarsi con te proprio ti faccio il gesto così il gesto del cappello o forse è semplicemente per il fatto che sono tutti amici ma non credo wow quindi anche l'aila figata poteva esserci l'aila ma possibilmente perché sono amici non tanto perché sta con daniel cioè non credo magari si vede nelle foto dice vedi c'è anche l'aila con la band si gli fa quel fascino forse se l'avessi chiamata o se l'avessi cercato di mantenere i contatti e show il grande con la bandana e il pisello durissimo eh però l'aila caruccia eh con questo tratto mezzo asiatico caruccia caruccia lupo solitario ah qua mi sa che forse ero da solo ah no ok era la scena extra era soltanto che c'era anche l'aila presente quando mi hanno scarcerato ok qui ora è moralità bassa comunque quindi è rendersi con la moralità bassa ah no che forse ero da solo No, 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 no. Shoot! Shoot! Hold on fire! Sean! Guarda, capace che è morto Sean. Che l'hanno colpito. Minchia, easy. Oh no, 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 please don't! Sean! Why? Why? Minchia, qua impazzisci. Massacro alla frontiera con gli Stati Uniti. Oddio, ora si vede tutto quello che è successo nel frattempo. Puerto Lobos. Lui con il cioccolato. Aumento dei bossergiatori a Puerto Lobos. Il turismo ne risente. Con i soldi fatti tutti disegnati. Che è il re misterio. Ha svaliggiato una banca. Un milione. Attacco alla banca centrale. Rubato un milione. Rapina spettacolare alla banca centrale. Più di un milione rubato. Chiamami. Inez. 05-555-0111. Gang fa irruzione nel nascondiglio di un'altra gang del luogo. Due morti. Cioè è diventato un criminale a tutti gli effetti. 6 anni dopo gli eventi al confine. 6 anni dopo. Quindi lui quanto ha? 16 anni? Cioè scusa, se aveva 10 anni prima qua ne ha 16. È un ragazzino. E vedi sta disegnando. Tutto tatuato. Guardalo. WTF? Si è fatto il tatuaggio di suo fratello sul petto? Capelli biondi? Certo, lupo solitario. Perché giustamente non c'è più suo fratello. Gli ha fatto un altarino. Con la benda. La palla da baseball. Querto Lobos l'accendino. Sean. Mamma mia che brutto. Rip Sean. Lui con la faccia tagliata. La birra con la madonna. Ma quelli sono i cerini. Sono i cerini quelli con la madonna. Qua ci sono gli altri amici della gang. O forse sono altri della gang rivale. Un giorno li disintegra. Proprio così. Brittata di esseri umani. Eh, vabbè, guarda. Si è trasformato tipo in Super Saiyan. Tipo. Tipo Gohan Super Saiyan. No. Ha! Schermo nero. Ah no. Eh, si è trasformato in Super Saiyan praticamente. Le strade si dividono. Attraversare il confine moralità alta. Quindi questo lo potevamo fare noi. Perché noi avevamo comunque moralità alta. Quindi se avessi scelto di attraversare il confine... ... ... ... ... ... Vedi lui si rifiuta Ah, invece lo fa! Ah, però non ferisce nessuno! Non ci avevo pensato potesse fare una cosa del genere. Le strade si dividono perché lui ora va in Messico e lui invece rimane in America, viene affidato ai nonni. E ora su Sean non possono fare nulla. Cazzo! Eh, vedi, per lui mi sa che è uguale, però... Eh, no, vedi, le foto di Natale cambiano. Gli hanno regalato il cucciolo. Lui che gioca con Chris. Perché se non lì a quest'ora ci sarebbe stata la foto di lui che abbracciava suo fratello. Invece è stata sostituita con... Tragedia stradale evitata grazie a un miracolo. I cittadini di Beaver Creek ferivano una petizione per la riparazione delle strade sul lungo lago. Ah, vedi, lui che fa crescere le piante insieme a sua madre. La macchina... No, non c'era l'articolo del giornale col bus. Era una cosa nuova. Anche la foto di questa macchina era diversa. Non c'è la foto della laurea. O comunque del diploma. Sei anni dopo gli eventi al confine. Eh, questa è la casa dei nonni. Aspetta, vediamo. Perché sì, da un lato può sembrare meglio, ma bisogna vedere a che prezzo. Perché se i due fratelli non si ricongiungono... Cioè, secondo me... Meglio ricongiungersi e dividersi che non ricongiungersi mai, secondo me. Con chi sta parlando al telefono? Ah, la libertà vigilata. Cioè, c'ha il coso, ecco perché. C'ha la cavigliera. Cioè, gli hanno dato la colpa lo stesso a lui. E non lo so fino a che punto mi sembra meglio. Cioè, lui con la libertà vigilata che è costretto a stare a casa dei nonni. Sì che si comporta bene perché, vedi, non usa i poteri per scappare. Non usa i poteri per fare nulla. Però, libertà vigilata, non so fino a che punto. Cioè, ha sacrificato la sua vita per suo fratello. Ah, sua mamma sta parlando. Vedi, i nonni che non si fidano. Dice, con chi stai parlando. Daniel Diaz? Forse questo è lui che gli ha scritto. Forse è Sean questo. Vedi, gli ha mandato le foto. Eccolo. Vedi, gli ha mandato la foto con un occhio solo. A me, sinceramente, questo non piace di più. Felici? Lui che sta praticamente segregato in casa è felice? È contento perché si è sacrificato per suo fratello, ma... A che prezzo? Non lo so, non lo reputo così felice. Cioè, lui è felice per suo fratello, ma lui... La sabbia, eh. Boh, non lo so. Vabbè, a te piace di più, ok. Su questo non ho nulla da dire, ma... Personalmente non penso che... Che si possa definire meglio. Almeno non per me. Cioè, a me fa più piacere sapere che... Sean... Si è finito in prigione. Ha pagato per quello che ha fatto. Però si è ricongiunto con suo fratello. Eh, Wolf Brothers. Sì, è solo il ricordo è rimasto. Perché non sono più... Cioè, non stanno più insieme. Sean con Cassidy. Scena alternativa. What? No, che figata! Quindi lì era da solo, e invece qui è con Cassidy. Forse se Cassidy non si fosse fatta male. Sean con Finn? What? Ah, certo. Perché c'era anche il fatto di poter... Di poter baciare Finn. Fratelli di sangue. Aia. Minchia. Moralità. Moralità bassa. Qua diventano tutte e due criminali, mi sa. La spada con Finn in Messico best finale. Forse qua, sì, forse qua muoiono entrambi, può essere. O che addirittura tutte e due sopravvivono e diventano entrambi criminali. O? Ah, che forse fa finta di arrendersi. E ora disintegrano tutti. E ora disintegrano tutti. I will survive! Boom! Ah, vedi, moralità bassa. Perché, vedi, lui sfrutta suo fratello. Ora crea il tornato di Arcadia Bay. Oh, che c'era chi? Un'abbia. Un'abbia! È ilbbia! Un'abbia! Ah, io c'è lui! What are you doing? 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 quell'immagine ah e di hanno rapinato la banca cioè questo è l'articolo di giornale delle gang rivali e sono diventati tutte e due terroristi tipo tutte e due della gang il disegno però era figo molto figo il disegno Diaz Repair Shop ah si sono aperti tipo un'officina però un'officina a che prezzo sei anni dopo gli eventi al confine ah e lavorano praticamente all'officina insieme oddio a che prezzo però quello si è appeso la maglietta di quando ha sfasciato tutto Diaz Repairs si hanno aperto l'officina sembra tutto a posto certo adesso si qua sembra tutto a posto ma il problema è quello che hanno fatto prima che è un po' cioè se ci fosse questa alternativa senza ferire nessuno effettivamente potrebbe essere top e lo potrei considerare meglio del finale che ho avuto io senza ombra di dubbio però vedi c'è Daniel che sembra non lo so è triste tipo come è con Milano ce l'ha con suo fratello forse ah la polizia ah no che è la gang e stavolta mi sa che lo ammazza lui è tutto tatuato la protesi nera proprio perché è cattivo malvagio vedi sto colpo lo ammazzano bravo enano ah no non l'ho ammazzato almeno non sono biondi ah anche vedi hanno la pistola eh vedi però lui ha questa vedi ha questa cosa in testa che sta pensando lui pensa Daniel non è cioè oddio non mi sembrano felici mentre invece la donna quanti soldi mentre invece quando parlava con Sean anche se anche se Sean si è messo a piangere ed era triste Daniel era felice comunque perché gli ha raccontato tutta la sua vita Sean è vero che è quello che ha sofferto di più e gli dà la birra lui che fa lo spaccone però poi ah il bracciale di Finn però non lo so lui è tipo non lo so è come se si se si lasciasse trasportare degli eventi e ora si fumano pure la sigaretta la centino quarto lobos del padre dice cosa penserebbe il padre a quest'ora lui però ci pensa secondo me questo sguardo lui ti fa capire che sta pensando dice cosa avrebbe pensato nostro padre di noi però vedi si vogliono bene però è strano non lo capisco cioè si supportano perché sono costretti a farlo cioè non è un volersi bene cioè non è quella cosa che dici sai io voglio bene e ti seguo perché ti voglio bene e più ti seguo perché devo farlo cioè sono costretto a seguirti praticamente ah così ah vero c'è anche da vedere più un altro no aspetta aspettate un attimo e aspetta here are both cutscenes però aspetta e vedi questo è soltanto ecco vedi saving arcadia bay versus not saving arcadia bay tutte le scelte e mi sa che è qua c'è anche la possibilità di potersi vendicare dei tuoi tizi nella cella madonna quante cose che ci sono in mezzo allora aspetta però c'è qua tutte le scelte si ok va bene mettete mi piace fate tutto quello che vuoi ma questo è l'uno ma ora vi faccio vedere aspetta ma questo è l'uno ecco qua inizia il 2 tre anni dopo ecco questo qua è invece quando scappano con brodi le ost dell'uno sono fenomenali non c'è paragone secondo me tra le ost dell'uno con le ost del 2 non c'è paragone molto meglio le ost dell'uno su questo ne sono convinto ah questo mi sa che quando è infatti è intatta quindi è quello che abbiamo visto noi perché io l'ho lasciata non l'ho sacrificata arcadia bay però non sono tutte le scelte perché non lo so boh vediamo andiamo avanti ma vedi episodio 1 infatti e dove sarebbe quello dove non salvi arcadia bay madonna questo è un clickbait assurdo questo ora lo segnalo questo direttamente aspetta questo lo segnalo easy subito tanto ti metto dislike easy dove aspetta rapina la fattoria nel capitolo 3 ah ok no stavo leggendo stavo leggendo ok dico come ha perso l'occhio no aspetta io volevo vedere ecco vedi questo invece ok è quella distrutta almeno dovrebbe essere quella distrutta esatto vedi tutta distrutta tutta distrutta vedi c'è tutto lo sfondo di arcadia bay distrutta ok poi però non cambia molto vabbè si qua cambia soltanto il fatto che cambia il fatto che tu vedi lo sfondo tutto distrutto io in realtà sono molto più curioso di vedere david cioè sarei curioso di vedere david eh la scena di david cambia e ora infatti lo voglio vedere ecco david ecco vedi david parla di clore e max ecco ok penso che questo qui sia quello più più completo eh però minchia questo qua non mi piace eh questo qua mi sembra sì questo qua mi sembra che sia quello migliore come è finito niente penso io personalmente parlando penso di aver fatto il finale migliore per come la vedo io ora stiamo vedendo diciamo tutte le curiosità tutte le cose nascoste tipo il vedere l'arcadia bay distrutta e ora vedere tipo cosa è successo vedi c'è la foto di clore e max sì esatto che lui si costituisce sì lui va in galera quindi sono ancora sposati non sono divorziati qua e allora lui perché si trova qui ok come funziona vabbè sì questo è il più veloce il deserto per un tempo certo penso tecnicamente sì Joyce effettivamente dovrebbe essere morta se è viva poi giustamente Chloe se n'è andata con Max quindi lui è rimasto praticamente però comunque io vi avevo detto io cosa vi avevo detto all'inizio anzi cosa vi avevo detto alla fine di Life is Strange 2 cioè che l'unico stronzo che sarebbe sopravvissuto sarebbe stato David perché David essendo dentro il bunker dei dei Prescott praticamente rimaneva in vita ed è così è stato cioè se tu avessi distrutto Arcadia Bay cioè lui sarebbe sopravvissuto honest I know David thanks Karen I get what you're going through when our town was destroyed by that hurricane my stepdaughter and her friend were among the only survivors we lost everyone else abbiamo perso tutti jeez I'm sorry I used to hate them for running away they hit the road straight away never to look back while I was trying to rebuild ecco quel messaggio in memory ecco perché non lo fanno vedere perché può funzionare in entrambi i casi cioè può funzionare o in memory of Chloe qualora Chloe fosse morta oppure in memory of Joyce o comunque in memory of Arcadia Bay cioè potrebbe essere un richiamo a qualsiasi cosa che effettivamente ah hanno fatto pace sono rimaste lì addirittura sono rimaste lì addirittura at last you guys remind me of them in a way and I don't want to fuck things up this time Sean I'm gonna do everything I can to help you get out of here that's my duty now but I want to be straight up with you okay yeah of course I know you guys got screwed that you think there's no other way out and you're neck deep in trouble all right but you and Daniel can't just hide out forever is that how you see yourself and e questo è uguale that's it too young and made it here ecco la chiamata che prima era Joyce forse Chloe che lo chiama perché forse è veramente Chloe ti prego resta lì ad ascoltare la conversazione come ho fatto io bravo bravo è Chloe Max che fa la galleria forse forse no your old man doesn't fear the heat yeah those solar panels are finally up and running you'll see you'll see the next time you come by I don't know maybe if you got down to Louisiana or Texas that'd be cool yeah gotcha all right take care then wish max luck for me ok bad habits die hard vedi augura a max buona fortuna quindi era Chloe avete sentito che True Colors avrà un prequel a fumetti minchia non me le dite ste cose si david è costretto a perdere qualcuno perché puoi perdere Chloe sacrificando Chloe o perdere Joyce sacrificando Joyce solo che la storia cambia nel momento che se perde Joyce Max eh si Max scusatemi Chloe con Max se ne vanno e poi fanno pace infatti adesso praticamente si sono sentiti al telefono mentre invece se muore Chloe divorzia addirittura da Joyce perché la morte della figlia l'aveva praticamente distrutto ci aveva distrutto entrambi e non sono più riusciti a stare insieme e quindi adesso si sentivano come amici carina carina questa cosa figo 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 non c'è non c'è nient'altro che dobbiamo vedere giusto non penso che ce ne siano altri a vendicarsi ok vendicarsi dei due eccoli take revenge versus free allora mettiamolo così ok penso che dopo di questo non c'è nient'altro da vedere vabbè qui possiamo andare avanti perché tutto questo è all'inizio solo per vedere se lui forse è preoccupato del fatto che gli abbia fatto male o no vedi chi se ne frega vedi who cares che è che è che è che è sean chi sono queste persone i'm all the way from mexico ask for a chute try to make peace with these morons wait daniel Oh. What are you doing? You're welcome. Why? What did you do that for? Because we're not assholes. Thank you. Yeah, don't make us regret this. How did you do that? How? Time for payback. What do you want now? Your turn, Daniel. Fuck off. Don't mess with this kid. I mean it. Fuck, save me. Vabbè, non penso che siano morti. That's what they get. Use me. Asshole. E infatti, vedi, ancora sbatte le pappebra. Daniel. Can you open their cell? After what they did to me? No way, Sean. You're right. Never mind. Ora dovrebbe esserci anche, vabbè, penso che metta anche la parte, tipo, della vendetta. Dovrebbe essere di pazza con questi moroni? Guarda, siamo a portarti. Daniel. Non penso che ci sia altro. Ma forse qua può fare, può uccidere, forse c'è anche la cosa che uccide i poliziotti. Ma forse qua, Daniel. Let me think. Sean, what do I do? Quick. I've got to find something to stop them. Come on. You're afraid of them. We've crushed them. Now. I got it. Okay, stop. I said... Idiots. We should have known better. Yeah. You saved our asses. Sean, what do I do? Quick. I've got to find something to stop them, dude. What's going on? Get rid of them. We will shoot if we need to. Understand? Should I take care of this? But forse interviene lui. Don't do anything stupid, kid. What the fuck? Okay, what the fuck? Do not move. This is our last warning. Put your guns down. Please. Sean! 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 You all right? I'm used to it. I'm okay. Idiots. They should have known better. Yeah. We saved our asses. Now. Let's bail. Sean! I think our thanes are in there. So much effort. So dead if we didn't. Take it out, Daniel. Let's roll. Hurry, Sean! Okay. Okay. Penso che sia stato abbastanza traumatico questo. Cioè, più che altro è il fatto... È il fatto che praticamente lui li abbia praticamente eliminati così. Cioè, senza battere i ciglio. Ah, c'è anche la scelta... C'è anche la scelta in ospedale del salutare Finn? O trovare addirittura Meryl all'ospedale? Aspetta. Vediamoci anche questo ormai, dai. Sono abbastanza... Me li sarei visti da sole tutte ste cose. Cioè, tutte ste scelte le avrei viste da solo. Però ormai che ci siamo... Guardiamole direttamente qua. Ve le guardavate per conto vostro? Cioè, come me le guardo io per conto mio... Ve le sareste guardate anche per conto vostro? Ok, questo è quello che ho fatto io. E questo invece è salutarlo. Over here! Holy fucking shit! No way! Sean, what the hell are you doing here? I'm trying to bail. Son of a bitch! I wish I knew you were here. Coulda hooked up! Shit. So, where's Daniel? I can't tell you, Finn. But I'm going to get him back. Good. Don't blame you for... not trusting me anymore. My fault you're in here. Just learned that he's in Nevada. What the fuck? Why Nevada? I'm on my way to find out, man. Yes, you will, my friend. Damn, I wish I could help you. But I won't get too far. But hey, I brought this on myself. So, are the police on your ass or what? Shit, yes. Pigs want me to narc on everybody. Like they fucking believe me. So, how bad is it? So, stupid question, but how are you doing? Well, you know, kind of sucks. No coconut drinks here. So, how bad is it? You're high. Let's say... I still got one left. Sean... I know this doesn't mean shit to you now. But I am sorry. About everything. Then... It's way too late for that. Too easy. Oh. Sorry, friend. You lost your eye and your little brother. Whatever. It's over. I don't need any sorry. Ow. It hurts. After everything... I do care about you, Sean. And I'm still sorry. Yeah. It's a sorry fucking world. Wow. Esaante questo. Then you're just... Selfish. Period. You act like you care. But you got your own family busted. And fucked up mine. For what? For what? Sean. Freedom. Peace. Love. For... The dream. And I failed. But at least I tried to do something. Yeah. You failed. Big time. Enjoy your new freedom now. I don't blame you, Finn. You tried something. Even if it ended up being a mistake. I'll just... Have to make things right for good now. You're the man, Sean. You're the man, Sean. I'm really gonna miss you. Much love. And respect. Always. I gotta go now. Take care of him. You're gonna find him. Sean. I trust you. So you should trust yourself, too. Take care of him. C'è Meryl in ospedale Perché Finn è morto C'è anche la possibilità che Finn possa morire Quindi Scopre praticamente Ecco vedi Ah Qua proprio non c'è scelta Qui vai diretto Easy Ok Poi qua praticamente la fine è la stessa Che se ne va e basta C'è un'altra cosa Visto che ormai ci siamo Visto che ormai ci siamo Vi voglio praticamente far vedere Vi voglio far vedere questo Vi faccio vedere anche questo Praticamente che è una cosa che Sean Come on Con Chloe è viva Cosa cambia? Cambia praticamente Che Arcadia Bay E' distrutta nel primo capitolo E si vede che è tutta distrutta E con David cambia il dialogo Dove lui parla del fatto che comunque Inizialmente Era Non era legato alla sua figlia Mentre invece dopo Si sono legati E si sente praticamente la chiamata Che al posto di essere Joyce È Chloe Che chiama David E gli parla della mostra che sta facendo Max E basta E a quanto pare Poi ha detto anche Jack Che c'è la lettera di Victoria Che praticamente lo ringrazia Per averla salvata Ok qui è se non andiamo A farci il bagno Qua invece lui entra in acqua Vi faccio vedere anche le spade Tranquilli vi faccio vedere anche le spade Devo di che stacchiamo Allora questo è tutto quello che abbiamo visto finora E c'è solo una scelta che dobbiamo fare Ecco vabbè qui Qua se noi diciamo che parteciperemo alla rapina Lei si incazza e se ne va E c'è solo una scelta che E se ne va lasciando E se ne va lasciandolo Li appeso come un deficiente Qua invece se rifiutiamo la rapina La discussione va avanti Ecco E qua invece L'occasione che mi sono fatto sfuggire io Perché sono un tacchino Perché sono un tacchino Eh non ci sono i comandi vocali E qui c'è la possibilità E qui Praticamente noi abbiamo Abbiamo la possibilità Di fare la route Con Cassidy Che cazzo Che cazzo la pubblicità Oh 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 Una mezza tetta si è vista Ok Qui invece La friendzone Possiamo anche rifiutare il bacio Ok Ah che imbarazzo Sfumata l'occasione Io invece rispondendo il fatto Che volevo solo amici Praticamente l'ho friendzonata Senza volerlo Io volevo che lei insistesse Un altro pochettino Invece lei si è ritirata subito Per questo non sono riuscito A fare la storia con Cassidy Eh io risposto questo Vedi però c'è questa cosa di Peccato Pensavo Pensavo che lei potesse Intrigare sta cosa Pensavo potesse Intrigare sta cosa Invece No L'ha fatta friendzonare E basta E Peccato Volevo Volevo stuzzicarla un po' E invece E invece no Adesso vi faccio vedere Praticamente Vi faccio vedere il duello Con le spade Dopodiché Vi faccio vedere Soltanto il duello Con le spade Dopodiché Soltanto il duello Soltanto il duello Soltanto il duello In spagnolo Qua se noi accettiamo la rapina Subito Senza esitare Scatta praticamente Scatta questa Scatta questa Questa route Chiamiamola route Poi non è una vera e propria route Heavy rain Non lo conosco Allora lo cerco Ah da precisare Per sbloccare questa route Bisogna restare anche Sull'accampamento E dire che ci interessano Più i ragazzi Che le ragazze E una volta che si prende Quella decisione Succede questo E il duello Con le spade Comunque sì Praticamente Si può ottenere Anche questo E vabbè Quello con Cassidy E' più E' più caratteristico Diciamo Ma io non me lo potevo mai Immaginare Che si potesse Sbloccare anche questo Non ci avevo pensato Minimamente Completamente Non ci avevo pensato Proprio Io l'ho scoperto Dopo Vedendo le scelte Ho detto Come poteva Baciarsi con Finn Ho detto Ma cazzo faceva Baciarsi con Finn Sblocodore Ok Poi qua Praticamente Non cambia più Nulla Poi vabbè c'è anche la scena Di quando Cassidy e Sean Entrano in tenda e fanno Fanno così E praticamente c'è Soltanto la parte dove Sean Non fa una grandissima prestazione Cassidy lo sfotta un pochettino Però sembra essere comunque innamorata E quindi non ci dà peso Dice non ti preoccupare Avremo modo di fare esperienza E tutte quelle robe lì Tutto lì Il c'era freddo sì È praticamente prima Nel lago però no Poi dopo non è questione Di essere freddo non freddo è proprio questione Che lui giustamente era Era inesperto poverino Quindi La situazione Aspetta perché forse Aspetta ve l'ho trovato Strano che non mi erano partite pubblicità Ancora su youtube Bene Addirittura due di fila Ottimo Grazie Giustamente Ecco Qui praticamente Si poteva entrare in tenda Solo se si era sbloccato il bacio prima Io che non l'ho sbloccato il bacio Non mi ha fatto entrare in tenda Ecco qua possiamo accettare Oppure no Se non si accetta Si fa praticamente lo stesso percorso Che ho fatto io Questo Eh cioè lei voleva E poi praticamente parte La scena La scena dopo Beh vedi Non è facile Uno parla Sembra che sia facile Ma non è facile Prendere per la prima volta Quella decisione La pressione è tanta Nonostante ci possa essere Tutto quello che vuoi La pressione è tanta Io me la ricordo ancora La prima volta Ero da solo Tutto la doccia Bei tempi No non è vero Sto scherzando Non mi metterò a raccontare La mia prima volta Vabbè questa Comunque è la Ecco che è a posto Lo chiama bro A 50 donazioni Racconto la mia prima volta Oppure a farla Una volta del genere No mi sa che non mi conviene Farlo Selfie mi ha dato Una lezione Tatuaggio sulla coscia Però che essi di Cassidy ci sta Ci sta Ci sta Cassidy Una bella botticina Sala merito tutto Poffete Prende lei in mano Le redini della situazione Giustamente Essendo più esperta Io sono Lei ve lo sa però Vedi E' carina però Questa cosa Se devo essere onesto E' carina Qua sicuramente c'era la musica Mai stata tolta Perché copyright Che ti taglia la testa In maniera Abbastanza violenta Quindi ha tolto la musica Giustamente intelligente Lui Non come me Che lascio le musiche E il copyright Giustamente poi non monetizza Lui monetizza E quindi leva le musiche Smart as fuck Quelli che parlano Quelli che si divertono Lì al Al campeggio Che fanno tutto casino Fanno bordello Vabbè Andiamo un po' più avanti Che tanto Qua abbiamo capito Cosa Cosa sta succedendo Ecco E qua hanno finito Lui è un po' Un po' Pensieroso Non importa Non importa Ti darò una brutta recensione Online Questa è una cosa carina Da dire però E qui ovviamente Adesso parte La modalità Tipo Contento Lui Subito Adesso sono un uomo Vabbè Magari è stata Secondo me Cassidy Comunque Cassidy Cassidy Tanta roba Cassidy Tanta Tanta roba Cassidy A me Mi ispira Mi ispira Mi ispira Mi ispira Parecchio Cassidy Comunque Va bene Detto questo Non c'era Penso nient'altro Da dover vedere Se ci sono cose Da vedere Ce le cerchiamo Magari me le cerco Poi per conto mio E aggiorno La prossima volta E Poi E poi E poi si vedrà Beh Rachel Rachel Si Non è male Anche a me Piace Però non lo so Cassidy È un po' Più Non lo so Mi sa Un po' Un po' Più Aggressiva Mi piace per quello Perché è un po' Più aggressiva Quindi Non lo so La preferisco Mi sa per quello Anche Rachel è comunque carina Anche lei è bellina Non lo so È solo una questione di Di sangue Come si dice qui Dalle mie parti No E una ti fa più sangue Rispetto a un'altra Nel senso che ti stimola Di più La circolazione sanguigna Mettiamola così Ecco Cassidy Mi fa quell'effetto È un po' Più selvaggia Quindi Non lo so Mi ispira Mi ispira Un po' Di più Sinceramente Parlando Però Ci sta E Va bene Detto questo Signori Direi Che ci vediamo Settimana prossima Godetevi La domenica Rilassatevi Fate tutto Quello Che Fate bene E poi lunedì Vediamo Che cosa Che cosa bolle Impendota Impendota Soprattutto Impentola Perché Non lo so Vediamo Magari io forse Lunedì probabilmente Non ci sono Quindi Però vabbè Faccio domenica E lunedì Come pausa Anziché il sabato Visto che oggi Abbiamo Abbiamo streamato E vedremo Che cosa succederà Alla prossima Buonanotte E Bye bye Alla prossima Alla prossima